Hanno rischiato di perdere l'anno scolastico perché impossibilitati a raggiungere la scuola. Sono figli di un testimone di giustizia e le linee guida operative obbligano l'adozione di rigide misure di sicurezza. Ma questa volta la sinergia fra istituzioni funziona e per i ragazzi si aprono le porte dello studio e infine del diploma. Accade a Reggio Calabria dove la segnalazione di un sacerdote ha messo in movimento un sistema di confronto fra l'istituto scolastico di riferimento, l'ufficio scolastico provinciale, il servizio centrale di protezione, la procura della Repubblica e la prefettura regina. Tutti insieme per individuare le soluzioni più idonee per i ragazzi. Viene predisposto con tutte le cautele del caso un programma ammirato di formazione che alterna lezioni domiciliari ad attività didattiche a distanza in sinergia tra le diverse agenzie educative, il servizio centrale di protezione e la procura regina. Si tratta di un percorso innovativo mai sperimentato prima che ha consentito ai due giovani affiancati da un gruppo speciale del servizio di protezione di poter fruire di un modulo didattico straordinario conseguendo proficuamente il diploma. Non era scontato che il confronto fra istituzioni potesse portare ad un simile risultato, ma è l'ennesima riprova che affidarsi allo Stato conviene, tanto nel denunciare, come ha fatto il testimone di giustizia, quanto nelle difficoltà di ogni giorno che una vita sottoscorta inevitabilmente comporta. Consolato Minniti per la CNews24